Sappiamo dov'è Perico. Prendete quel bastardo e fatevi dare la sua chiave di codifica. Trasformeremo Bucion Radio in Radio Bolivia Libera. Con la giusta gestione possiamo trovare un modo per giovare tanto all'uomo quanto alla maniera. Il Santa Blanca è amico della Bolivia e la protezione della natura. Facciamolo per il futuro della Bolivia, compagneros. È il nostro lascio alle generazioni future. Grazie a tutti. Procorre un incontro così non è dà il sogno. Mi sa talmente di imboscata che mi fa venire il dubbio che faccia sul serio. Ma ci sei o ci fai? È di certo una trappola. Avrà dei cecchini in posizione per farci fuori ancora prima del nostro arrivo. Oppure riempirà la zona di mine anti-uomo. In effetti siamo veramente fuori di testa ad andarci. È una follia, sì. Ma sono d'accordo con Ulta. C'è una minuscola possibilità che sia sincero e abbiamo solo un modo per scoprirlo. Alla prossima. 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 Fuoco. Roger. Avrò fuoco su questi stronzi. Nemico a terra. Non tiassa spiolò da lunga. Fuoco sui, li hai a dollar che starko. Alla prossima. Dove un gutiolò da lungo bucati. A lungo. Puppy kingsuit. Nooo! 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 Ci siete? Fuoco! 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 Ho ricevuto! Inganciate i bersagni! Incattivo in meno! Merda! Soldati del cartello in zona! Cerca di non ribaltare quest'affare! Eroio Carnales! Ascoltatevi in questo messaggio speciale di El Sueño! Fratelli e sorelle! Romagni! La Bolivia è stata buona con noi ed è nella natura del Santa Blanca ricambiare la generosità! Nelle province dove siamo attivi il cartello fornirà ai residenti con più di 65 anni una pensione del Santa Blanca a mio piacendo arriveremo tutti alla vecchiaia e meritiamo di vivere gli ultimi anni nel comfort! Il cartello aiuterà gli anziani a parto che non abbiano mai collaborato con Paggatari e i ribelli! Quando il governo abbandona se stessi i vostri genitori e i vostri nonni il Santa Blanca comitica! Ci siete? Aprite il fuoco! Incaggio! Preso! È morto! Incaggio! Oh, Pagga! No! Pagga! No. No! No! Pagga! Ok! No! Fuoco! Abre il 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 fuoco! Grazie a tutti. Il loro tenente cerca di scappare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.